Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, finalmente il video dei giveaway e io vi ringrazio tantissimo per il traguardo che ormai abbiamo superato da un po' già dei 1000 iscrits, scusate il ritardo però vi ho già spiegato che ho dovuto accumulare un po' di roba prima di fare questo giveaway le regole per partecipare ai giveaway sono semplicissime e ve le lascio giù nell'info box comunque la prima regola, ve la lascio anche qui nel frattempo che scorre il video è quello di essere maggiorenne e di avere il consenso se siete minorenne dei genitori quindi nel momento in cui esserò magari una minorenne magari vorrei un'email da parte dei genitori che mi confermino che posso mandare il premio perché comunque devo chiedere anche l'indirizzo di casa poi seconda regola è essere iscritti al mio canale ovviamente e lasciare mi piace a questo video e condividerlo sui social e se magari mi seguite taggatemi anche così per farmi controllare che avete seguito tutte quante le regole poi un solo commento a testa con la scritta partecipo e anche magari qualche consiglio per il canale non vorrei solamente appunto solo iscritto partecipo consigliatemi qualcosa, qualche video che volete vedere, qualche cosa che magari devo migliorare e una cosa molto importante il giveaway dura un mese quindi dal giorno in cui lo carico che è domani quindi 20 di dicembre scadrà il 20 di gennaio subito dopo farò pure l'estrazione e quindi già che ne approfitto oltre a fare un giveaway per ringraziarvi per i 1000 iscritti facciamo anche un giveaway natalizio così prendiamo due cose in uno e quindi niente sto parlando già parecchio e passo subito a farvi vedere i premi quindi prendiamo una grande bustona di roba e man mano faccio vedere cosa vincerà il vincitore o la vincitrice quindi sapete che mi piace sia le cose appunto cartopazzose che le cose creative quindi questi due washi tape molto carini così con le matitine e con i cuoricini vado veloce perché se no veramente non finiamo più alcuni stampini li ho fatti io quindi scusate se sono brutti però li ho fatti io e quindi questo della chiave, questo della torre Eiffel e questo qui che è un tondino e un cerchietto sempre come gatto pazzoso questi sticky knot a forma di farfalla molto carini poi abbiamo questa agendina molto carina guardate che carinella col guffetto ed è così molto semplice arrivi facciamo qua poi abbiamo una penna guardate a forma di stella poi passiamo a qualcosa di più creativo e quindi ho preso due glitter questo di colore arancione è tipo un arancione fluo voi adesso della fotocamera non lo vedete ma vi assicuro che è così e poi ho preso quest'altro che anche io ce l'ho è molto bello che è tipo sul rosso rosa non sapere dire che colore è precisamente poi vi metterò anche un po' di minuteria che adesso non vi faccio vedere però appunto un po' di gancetti insomma qualcosina per creare e poi passiamo alle mie creazioni che vi voglio regalare e sono sei che sono in fimo che creazioni in resina e in colla calda allora abbiamo questi due questo paio di orecchini questi orecchini qua che sono così e sono a forma di torta poi abbiamo questi altri due orecchini che sono sullo stile Toon e sono due margherine poi abbiamo come creazioni in colla a caldo questa che è appunto quella che feci sul tema dei Pokémon questa sempre stile Pokémon poi questa che è un po' sullo stile marinaio questa che è con Winnie the Pooh poi per la resina abbiamo questa zampetta molto carina sempre senza ciondoli questo se volete farli diventare calamiti volete farli diventare anche quello che volete questo che se vi ricordate bene lo faici ad Halloween però credo che se vada bene per tutto quanto l'anno quindi mi piace molto questo è un cammeo quindi ha anche il gancetto incorporato sempre su quello stile abbiamo questo che è un po' più macabro questo qui e quello con la strega questo questo così sempre con la strega e poi le ultime creazioni in resina ve le mostro tutte insieme abbiamo questo con Sailor Moon che amo particolarmente questa qui con la tazzina e con il cappuccino e questa qui sempre di Sailor Moon in ultimo come mia creazione vi regalo anche questa che è una graffetta con Winnie Pooh e Winnie Pooh verso Netunzuma le cose non mi entrano neanche più nell'inquadratura ovviamente non mancheranno delle altre sorpresine che manderò appunto al vincitore o alla vincitrice perché mi piace sempre regalare delle cose che appunto non sapete quindi sarà forza qualche mia creazione qualcosa che mi viene in mente nel frattempo e quindi poi vi ricordo anche che oltre a tutto questo abbiamo anche vi manderò un po' di minuteria un po' di sticker anche che stamperò per voi io vi ringrazio ancora per questo piccolo traguardo vi mando un grosso abbasio mi raccomando sempre di leggere giù nell'info box tutte quante le regole quindi niente spero che questo giveaway vi piaccia e soprattutto mi raccomando condividere in modo che anche gli altri vedano questo video e possano partecipare quindi niente vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao